Salve a tutti e ben trovati in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere una partita tra due personaggi molto famosi nel mondo degli scacchi. Da una parte abbiamo Faustino Oro, bambino di 10 anni che detiene il record del giovane scacchista più forte di sempre, della sua età, e dall'altra Gotham Chess, il famoso content creator che ha fatto conoscere gli scacchi in tutti gli angoli del pianeta. Lo youtuber più seguito al mondo, è un maestro internazionale, gioca a pochi tornei ultimamente, penso che non sia più il suo obiettivo quello di fare tornei di scacchi, però insomma non ha bisogno di presentazioni, lo conoscete già. Vediamo com'è andata questa partita, prima di iniziare ricordo a tutti di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui, Faustino Oro gioca con i pezzi bianchi, siamo al Title Tuesday, almeno il Title Tuesday ci regala queste partite emozionanti, perché nel mondo degli scacchi oggi come oggi non sta succedendo niente di che, insomma non ci sono tornei forti, non sta giocando Carlsen, Ding Lirene è sparito, cioè non stanno giocando ragazzi. Noi ci godiamo questa super partita tra Gotham Chess e Faustino Oro, e Gotham Chess deve ringraziare che faccio video in italiano, altrimenti sarei stato io il più visto al mondo, no scherzo, non lo so, complimenti a lui, complimenti a lui per aver diffuso il gioco degli scacchi, perché ne hanno veramente tanto bisogno. Faustino Oro apre con cavallo F3, Gotham risponde con G6, con questa mossa non fa intendere all'avversario cosa vuole giocare. Oro continua con pedone E4, segue alfiere G7, pedone D4, Oro controlla il centro e Gotham Chess gioca pedone D6, quindi una difesa moderna Pierce, ok? Lui so che è esperto nella Karo Khan, però comunque è un forte giocatore blitz, vediamo cosa succede. Oro sviluppa l'alfiere in C4, Gotham risponde con pedone A6, intende giocare B5, alfiere B7, quindi doppio fianchetto. Oro arrocca e Gotham Chess continua con cavallo C6. Questa, anche se non sembra, in realtà è una mossa pericolosa, perché l'idea di giocare alfiere G4, inchiodare il cavallo e catturare poi il pedone in D4. Oro capisce questo piano e continua con pedone H3. Segue cavallo F6, donna E2. Questo è un bel piano, donna E2. Oro sta attaccando il re a raggi X, vuole giocare E5 a un certo punto, oppure mosse come torre D1 per attaccare la donna del nero. Gotham arrocca corto. Oro continua con pedone C3, rinforza il centro. Oro gioca E5, segue pedone per E5, pedone per E5, torre D1. Eccola qui, torre D1, come vi avevo detto. La posizione comunque rimane pari, sono due forti giocatori, sanno impostarla all'apertura. Non ci sono state sorprese. Gotham Chess continua con donna E7. Oro sviluppa il cavallo in D2. Segue B5, alfiere B3 e cavallo A5. Giustamente Gotham Chess va a caccia dell'alfiere, vuole togliere l'alfiere campo chiaro e ottenere così la coppia degli alfieri. Oro però ritira l'alfiere, segue alfiere B7, mossa che non piace molto al motore. Il motore voleva giocare pedone C5, quindi espandersi sul lato di donna. L'alfiere B7 comunque sembrerebbe una mossa logica. Il nero sviluppa un pezzo e collega le torri. Oro continua con B4, vuole cacciare via il cavallo di lì. E dopo cavallo in C6 gioca pedone A4. Prende a sua volta spazio sul lato di donna. Quindi è pronto a catturare per guadagnare un pedone. Gotham Chess ritira il cavallo in A7 per difendere e arriva a cavallo B3. Con cavallo B3 Oro può saltare in A5 oppure in C5. Pensate, questo bambino ha 10 anni ragazzi. È incredibile. Ha 10 anni e ha 2900 su chess.com. Dal vivo ha già una norma da maestro internazionale. Molto molto forte. Segue torre in D8 per Gotham. E Oro salta in C5. Attacca l'alfiere. L'alfiere si sposta in C6. E Oro gioca alfiere G5. Ok, qui sembra che stiano facendo un po' di confusione. In realtà non è affatto semplice questa posizione. Perché può succedere veramente di tutto qua sul lato di donna. Sembra che ci sia un pedone in presa, però allo stesso tempo se viene catturato quel pedone viene aperta la colonna A. Allora, Oro qui sta inchiodando il cavallo. Gotham cattura in D1 la torre. Gioca la mossa migliore. Segue torre per D1. Con torre D1, Oro ha perso il controllo sulla colonna A. Apparentemente per Stockfish, alfiere per, era la mossa migliore. Gotham attacca l'alfiere invece in G5. Segue alfiere per F6. Pedone per F6. E torre A1. Wow. Questa è una strana manovra da parte di Faustino Oro. Ci ripensa. Quindi non solo dà via la coppia degli alfieri, ma poi riporta la torre in A1. Incredibile. E Gotham cest gioca la mossa migliore per D1 A5. Ora c'è veramente tanto casino qua sul lato di donna. Vediamo come reagisce Faustino Oro. Cattura in B5. Quindi gioca la mossa migliore. Segue cavallo per B5. Anche Gotham cest risponde giocando la mossa migliore. Attaccando in C3. Donna c4 per Oro. Difende il pedone in C3. E Gotham cest ritira il cavallo in D6. Quindi qui siamo in parità. Stanno giocando bene entrambi. Segue donna D3. Pedone per B4. Torre per torre. Alfiere per torre. Pedone per B4. La posizione inizia a semplificarsi. E rientriamo sempre di più in un finale. Sappiamo quanto sia importante saper giocare i finali. E vediamo un bambino di 10 anni come gioca i finali. Segue alfiere C6 per Gotham. Oro continua con alfiere a 4. Intanto individua che questa è la mossa migliore e offre il cambio degli alfieri. Segue donna in E8. Alfiere per alfiere. Donna per alfiere. Il gioco si semplifica. E arriva a cavallo D2. Ora coppia dei cavalli contro cavallo e alfiere. Alfiere in E7 per Gotham cest. Cavallo B3. Oro va a giocare sul lato di donna. Donna B6 per Gotham cest. Attacca il pedone in B4. Oro gioca donna in C3. Difende e attacca quello in E5. Segue pedone F6. Cavallo D2. Oro vuole giocare cavallo C4. File il cambio. Donna C6. E scacco di donna in B3. Ora dopo cavallo F7. Che è la mossa migliore. Oro ritira il cavallo in D3. Quindi come vedete è partita molto combattuta. Viene giocata con pochi secondi di tempo sull'orologio. Diciamo che i due più o meno si equivalgono. Equivalgono segue donna in D7 per Gotham cest. Cavallo C4 per oro. Donna in D4 e cavallo E3. Allora cosa sta succedendo? Che oro qui ha lasciato un pedone in presa. Con pochi secondi di tempo lascia un pedone in presa. Segue donna per E4. E questa è già un'imprecisione secondo il motore. Perché il bianco può iniziare ad attaccare. Dopo cavallo D5. Oro sta attaccando l'alfiere. La casa C7 e la casa F6. E Gotham gioca una mossa molto logica. Alfiere in D8. Ovvero l'unica mossa per difendere tutto. Faustino oro salta con il cavallo in C5. E ora dopo scacco in E1. Re in H2. Gotham cest decide di guadagnare un altro pedone. E oro qui ha un vantaggio enorme ragazzi. Un vantaggio veramente enorme. Deve giocare donna in A4. Il bianco non ha scacchi. Perché c'è il cavallo. Quindi donna in A4. Donna in E8 scacco. Cavallo in D7. E può entrare a guadagnare un pezzo. A cercare di dare scacco matto all'avversario. Però purtroppo. Faustino oro non vede questo piano con pochissimo tempo. Sull'orologio. Ma c'è da dire che non ha mai rischiato. Dopo vediamo il grafico. Gioca cavallo in E6. Attacca l'alfiere in D8. Gotham continua con donna in D2. Non si sa bene quale sia l'idea. Probabilmente difendere. Cavallo per alfiere da parte di Faustino oro. Qui invece aveva addirittura scacco matto in 8 mosse. Sempre con donna A4. Lasciando il cavallo in presa. Entrando in F8. Per poi dare scacco matto in G7. Il motore dice scacco matto forzato in 8 mosse. Però invece cattura. E dopo cavallo per. Segue cavallo per F6 scacco. Intanto Faustino oro recupera indietro un pedone. Ok. Ancora un pedone in meno. Segue RG7. Scacco in E8. Re F8 e cattura anche il pedone in G7. Wow. Benissimo. Si ritorna in parità. Allora finirà patta sta partita. Dai. Vediamo cosa succede. Scacco di Gotham Chess in F4. Oro para con donna G3. Arriva Re in F7 per difendere. Gotham Chess vuole che il bianco catturi la donna. Oro però non cattura. Attacca la donna con il cavallo. Segue donna per donna. Re per. E qui arriva Re in E6. Posizione pari. Oro ritira il cavallo indietro in E3. Cavallo in C6 per Gotham Chess. Attacca il pedone. Oro spinge questo pedone. E dopo cavallo D4 spinge ancora quel pedone. Quel pedone sta diventando pericolosissimo. Il bianco inizia ad avere vantaggio. Mamma mia. Nervi saldi. Come fa secondo voi a giocare così veloce a 10 anni con il mouse? È un mostro. Cioè è fortissimo. Nessuno a 10 anni giocava così a scacchi. Cioè neanche Carlsen se torniamo indietro nel tempo. Online così bene. Cioè è una roba pazzesca. Re in D6 per Gotham Chess. Segue cavallo in C4 scacco. Re in C6. Qui arriva all'errore definitivo. Beh logicamente Gotham Chess va a catturare il pedone. Però poi perde tutti questi altri pedoni. Questo è il problema. Infatti dopo lo scacco arriva Re per. E il bianco guadagna anche un altro pedone. Ora se dovesse cadere anche il pedone in H6. Il bianco vincerebbe la partita. Segue Re C7, Re G4. Cavallo in E2, Re in H5. Ci siamo. Il pedone sta per cadere. Faustinooro è furbissimo. Ha piazzato il cavallo in G5 in modo tale da difendere la casa F4. E questo cavallo non può mai attaccare questi due pedoni. Immaginatevi cavallo F4. Il nero sì che avrebbe potuto pareggiare. Invece non può. Non può. Segue cavallo D4, Re per H6. Qui fine della storia. Il bianco vince la partita. Gotham Chess ovviamente è uno che non abbandona mai. Però qui gli scade il tempo. Aveva poco tempo. Probabilmente avrà pensato. Vabbè qui non c'è più niente da fare. E perde questa partita. Ora come potete vedere il grafico. Faustinooro non ha mai rischiato nulla. Cioè capite ragazzi. Sempre passato in vantaggio oppure parità. Ha giocato da 2900 contro 2750 di Gotham Chess. C'è poco da dire qua insomma. Qui abbiamo di fronte a noi un fenomeno che tutto il mondo sta aspettando. Tutto il mondo sta aspettando che Faustinooro diventi grande maestro. E inizia a giocare con i giocatori più forti al mondo. Perché oggi più che mai il mondo degli scacchi ha bisogno di fenomeni. Di persone determinate. Di persone che riescano a portare in alto questo meraviglioso gioco. Carlsen ha vinto tutto. È un fenomeno. È fortissimo. Però come vedete non sta più giocando praticamente. Cioè non sta più giocando. Gli altri non ne parliamo. Cioè di Liren eccetera. Non ne parliamo neanche. Io non so se il mondo degli scacchi cambierà un pochino. Nel senso che ridurranno i tempi di gioco. Perché ormai ne parlano un po' tutti. Tutti vogliono ridurre il tempo di gioco e gli scacchi. Per renderli anche un po' più spettacolari. Più seguibili. E niente. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace. Iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti